Come faccio a non salutarvi ragazzi? Un bacio a tutti quanti voi, buon lavoro, siete bravissimi e vi seguo anch'io. Bella in Total Black, Federica Fontana e Mondana anche a Roma. Con Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia ha illuminato l'evento firmato Gianni Bulgari alla boutique GB Enigma. L'ex presidente, CEO e direttore creativo di Bulgari ha fortemente voluto che l'artista Geo Florenti creasse un rivoluzionario sistema di illuminazione, strizzando l'occhio però pure al risparmio energetico sull'essere green, Federica le idee chiare, soprattutto sul come educare i suoi due figli, Noè e Sofia, avuti dal marito Felice Rusconi. Cerco di educare e di essere educata, quindi ai miei bambini insegno delle piccole cose, chiudere l'acqua quando si lavano i denti. Adesso stiamo incominciando con la raccolta differente.